Questa legge è un premato italiano perché qualche mese fa ci siamo domandati con alcuni giovani parlamentari, in particolare la prima firmataria di questa legge, Maria Chiara Gadda, cosa lasciare anche in questa legislatura, anche dopo l'anno dell'Expo. A radici aretine la nuova legge contro lo spreco alimentare approvata dalla Camera dei Deputati. La legge mira a ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. L'onorevole Marco Donati, deputato PD, è stato tra i principali sostenitori, oltre che firmatario. L'obiettivo di questa legge è quello di recuperare in poco tempo un milione di tonnellati a fronte dei 500 mila raccolti in questo momento, quindi raddoppiare, dare una risposta molto importante in termini etici, soprattutto ai tanti che hanno bisogno e che potrebbero utilizzare finalmente il cibo che altrimenti viene buttato, incenerito e quindi indirettamente magari creare altre difficoltà all'ambiente. E semplifica le norme, cioè semplifica la possibilità da parte dei soggetti cessionari, questi soggetti del volontariato, di recuperare le eccedenze nella piccola, grande e media distribuzione, ma questo grazie a un miglioramento della legge che varrà anche per i farmaci, di recuperarle e ridistribuirle a chi ne ha bisogno. Io credo che francamente una legge mette tutti d'accordo, quindi una delle migliori leggi di questa legislatura. Ad Arezzo se ne parlerà in un incontro pubblico che si terrà il prossimo 11 di aprile alla Casa delle Culture, a partire dalle 21, coinvolta anche Slow Food. Ogni tonnellata di cibo sprecato produce circa 4 tonnellate di radio carbonica, quindi questo ha un impatto anche economico a fronte dei vari protocolli, Chioto, Parigi, eccetera. Noi cerchiamo da sempre di sensibilizzare le persone nell'imparare a fare la spesa, di non cadere nei tranelli, quindi di comprare davvero solo quello che serve per le esigenze familiari e in questo senso un passo importante viene dalla grande distribuzione che sicuramente sarà più sensibile in questo ambito.